buongiorno sono il professor venturini sono il presidente del corso di laurea triennale per tecnici di radiologia e la radiologia diciamo così esercita un ruolo centrale nella nella medicina moderna sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista terapeutico i tecnici di radiologia assieme ai medici di radiologia esercitano ormai un ruolo centrale sono ormai degli attori protagonisti e non più delle comparse per definire un corretto iter diagnostico terapeutico per i pazienti e per i clinici buongiorno sono roberto di bella attualmente mi occupo della parte teorico pratica del corso di laurea in tecnica di radiologia medica per immagini e radioterapia un corso di laurea triennale che forma un professionista a tutto tondo esperto in tecnologie diagnostiche mettendo sempre al centro la persona assistita lo studente durante il percorso didattico affronterà le principali attività didattiche di base afferenti alla medicina ma anche quelle caratterizzanti della diagnostica per immagini funzionali alla attività di refertazione che in capo al medico specialista di area il corso di laurea è un corso di laurea triennale che prevede l'abilitazione alla professione pertanto lo studente alla fine del percorso potrà esercitare purché iscritto a un albo professionale nell'ordine di competenza ciao sono paolo studente del terzo anno l'attività più importante e interessante che svolgerete nell'arco di tutti tre gli anni è quella di tirocinio dove avrete a conoscenza di diversi ambiti che vanno dalla radioterapia alla medicina nucleare alla radiologia tradizionale ognuno di essi con delle specifiche peculiarità che potranno suscitare in voi più o meno il vostro interesse e questa esperienza vi servirà per capire quello che è interruolo e compito di un tecnico di radiologia all'interno di una struttura ospedaliera ciao sono maria chiara studentessa del secondo anno il punto di forza di questo corso è l'esperienza di professori di tutor che ti affiancheranno in questo percorso infatti risulta un punto fondamentale per imparare a svolgere questa professione in modo consapevole e autonomo scegli in subria scegli oggi il tuo domani perché scegliere questo corso perché io il dottor di bella coordinatore del corso e tutto il corpo docenti oltre a trasmettere conoscenza e professionalità per le nostre rispettive materie cerchiamo di trasmettere a tutti gli studenti grande passione ed entusiasmo per la professione che svolgiamo in un ultimo non trascuriamo gli aspetti innovativi come tradizione dell'insubria scegli oggi il tuo domani